A mio giudizio penso sia un bellissimo risultato, noi con molta unità siamo messi al servizio di questa vista di due spalle, penso che questo sia un po' l'obiettivo che bisogna avere. In questo caso perché contribuisce a quell'idea di ragazzo, di ragazza, di giovane, individua. Poi ci sarà un'iniziativa Scopri Lazio, tour all'interno delle bellezze e dei beni culturali. Per esempio noi abbiamo l'Accademia Nazionale di Santa Sicilia, che veramente tutto il mondo ci inviglia, perché è una cosa di eccellenza, riserverà un biglietto per i nostri giorni. Come una colonia particolarmente preziosa, come un quadro con i nuovi stadi di pregiarsi per affari residenti di Lazio, avrà la testa e la città grazie e tutta la città e le parti santo e comodamentali. E noi siamo convinti che la cultura è uno di questi. E con questa convinzione, per 49,50 euro, cioè anche a teatro si va con 5 euro. Per farmi complimenti o anche più semplicemente solo per parlare. E ormai il refrain che io ascolto sempre, è sempre quella cosa. Noi artisti, noi prima di tutto siamo in posto, perché chiaramente viviamo di cultura, ma anche che abbiamo. Non può permanere a mezzo a noi, a mezzo agli altri, il confronto che fa.